Da oggi l'economia d'impresa della provincia di Pesaro Urbino associata alla Camera di Commercio può comunicare se stessa a livello nazionale e internazionale attraverso il tratto distintivo Made in Pesaro 2024. Un logo legato alla Capitale della Cultura presentato oggi nella sede di una Camera di Commercio che è stata fra i primissimi partner sostenitori del progetto di Pesaro Capitale. Questo logo racconta intanto una storia di successo perché il primo successo abbastanza importante è che Pesaro sia diventata città capitale della cultura e in questo evento non può che essere per il sistema produttivo un'occasione di grande promozione e in questo contesto la Camera di Commercio non poteva che essere in prima fila. Quindi il primo dato che mi sembra doveroso sognare è che la Camera di Commercio finanzia le attività di Pesaro Capitale della Cultura e per fare in modo che tutte le imprese, non solo i principali sponsor, potessero avere la possibilità di essere canali promozionali per questo evento si è definito con il Comune la possibilità di presentare questo Made in Pesaro e oggi comunicheremo al sistema associativo questa possibilità con il relativo regolamento applicativo. Il logo che è stato nel frattempo definito e anche attualizzato per questo tipo di utilizzo verrà oggi simbolicamente con un invio via mail a tutte le imprese del territorio messo a disposizione per tutti gli usi comunicativi. Come sapete la prima forma del logo venne presentata addirittura e distribuita ai mobiliieri al Salone del Mobile di Milano pochi giorni dopo la nomina a rappresentare quanto per noi le imprese e le aziende siano anche un veicolo di promozione e quanto la Capitale 24 voglia rappresentare anche un marchio di qualità ulteriore per le imprese che hanno fatto grande il nostro territorio. Infatti la declinazione che verrà messa a disposizione delle imprese sarà esattamente Made in Pesaro 24 a Capitale della Cultura e questo tipo di utilizzo sarà ovviamente per tutti gli usi comunicativi quindi dal franco bollo mail alla carta intestata a tutti i documenti, cataloghi con cui le imprese promuovono il proprio saper fare, i propri prodotti e la propria competitività. L'impegno finanziato della Camera di Commercio è un impegno molto attento agli aspetti istituzionali per cui noi abbiamo finanziato il prima, il durante e il dopo. Noi per tre anni daremo un finanziamento di 50 mila euro per ciascuno degli anni ma faremo anche un evento in ottobre su Mirabilia. Mirabilia è un'importante istituzione di questo Paese ma nazione del sistema camerale ed il sistema camerale che occupa siti Unesco, noi siamo una provincia che ha un bellissimo sito, anzi ne ha due, uno a Bad Urbino, uno qui a Pesaro e verranno tutti i siti Unesco all'interno del sistema camerale. Sarà un evento di promozione importante e significativo.